L'accordo politico sulla base dei programmi tra Fabrizio Di Stefano e Mauro Febbo è oggi diventato realtà. Il centrodestra si prepara così a presentarsi unito al ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi. I motivi della decisione, invocata da molti all'interno della coalizione, è stata illustrata questa mattina nel corso di un incontro con la stampa. Come ha dichiarato l'assessore regionale, Mauro Febbo, la componente più a sinistra di Forza Chieti, si asterrà dal voto non avendo trovato un accordo con Diego Ferrara. Ci siamo seduti, abbiamo ragionato serenamente su un programma che io ringrazio di aver accettato, peraltro non avendo fatto l'apparentamento, quindi non uno scambio di fortuna, abbiamo fatto un accordo politico su un programma, ne uscirà una maggioranza rafforzata perché in questa maniera il numero dei consiglieri a disposizione del nuovo sindaco saranno anche maggiori. Credo che daremo delle belle risposte alla città, soprattutto su un programma che credo sia largamente condiviso, con obiettivi precisi e anche con date per cui possiamo raggiungere veramente i risultati importanti. La domanda va fatta a Bruno Diorio perché credo che sia giusto e logico farla a lui. Io per quanto mi riguarda, per quanto ha avuto l'ultimo scambio, so che Diorio entrerà in consiglio comunale, credo, seguendo quel progetto politico che avevamo portato e civico che avevamo portato avanti. Mi piacerebbe che anche lui accompagnasse Di Stefano in questo progetto di programma che abbiamo sottoscritto perché è il programma che lui ha presentato come candidato sindaco, quindi credo che sia un passaggio naturale rispetto a quel che è avvenuto rispetto alla settimana scorsa, al dato del 20 e 21. Quindi ci presenteremo agli elettori con un programma specifico. Il centro-destra andrà unito al ballottaggio e questa è una bella notizia per la coalizione? Sì, un'ottima notizia. Quello che non siamo riusciti a fare il primo turno di ballottaggio, a primo turno lo riusciamo a fare al ballottaggio adesso. Mi fa molto piacere, soprattutto perché come avevo chiesto io e come avevo detto, io volevo un accordo politico basato su programmi. I punti programmatici presentatemi dalla lista Forza Chieti per molti aspetti ricalcavano scelte già da noi messe nel nostro programma, per altre invece divergevano o meglio non c'erano contemplate ma servono soltanto ad arricchire il nostro progetto politico.